Sarà anche cambiata, ma quando vengo qui mi sento a casa. È ovvio che vedo i negozi bruciati e le vetrine in frantumi, ma provo ancora un senso di appartenenza. Il cambiamento è coinciso con la chiusura del Tower Records. È stato un colpo, uno di quei momenti in cui non puoi che prendere atto che la città che conoscevi non è più la stessa. Sin da bambino, Tower Records è stato come una casa per me. Ha rappresentato il negozio di dischi per eccellenza per più di una generazione ed era anche un ritrovo.